Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo video sulle novità di Minecraft. È uscito Minecraft 1.18.2 Ed è inutile che ci inganniamo ragazzi, siamo tutti contenti dell'uscita della 1.18.2 Non perché è uscita la 1.18.2, ma perché così finalmente usciranno definitivamente gli snapshot della 1.19 Dato che hanno finito lo sviluppo della 1.18, si spera per sempre a questo punto. E domani è giornata di snapshot, chissà se ci fanno già il regalo, potrebbe essere un po' presto Ma intanto in questo video vi voglio riportare tutte le novità della 1.18.2 In modo che siate aggiornati anche su questa sottoversione di Minecraft Di una versione della 1.18 che è comunque stata molto bella La prima novità da segnalare è un nuovo comando davvero molto interessante Che si chiama Place Feature Questo comando ci permette di piazzare letteralmente una feature del gioco Ad esempio possiamo decidere di piazzare un albero di acacia Che in questo modo è stato generato in maniera naturale in questo punto randomico del bioma Ma possiamo anche decidere di piazzare cose ben più complicate Se andiamo a vedere la lista di Place Feature infatti ci sono cose come i geodi diametista I bambù no pozzol Che cos'è il bambù no pozzol? Il bambù senza il pozzol sotto Ad esempio restando in acqua posso decidere di piazzare un intero iceberg Giusto con questo comando E mi va a generare come vedete degli iceberg randomici Con i quali possiamo creare un bioma custom al volo Questo comando si compone di tre parti Appunto il comando Place Feature La feature che possiamo selezionare con Tab E poi delle coordinate che di base sono le tilde Quindi significa il punto in cui ci troviamo Ma che altrimenti possiamo definire come vogliamo Con la X, la Y e la Z La seconda novità Se vogliamo ancora migliore rispetto a quella che abbiamo appena visto Riguarda invece il comando Locate Il comando che in questo caso riguarda le vere e proprie strutture del gioco Infatti il comando Locate è stato aggiornato e potenziato davvero tanto Con il comando Locate è sempre stato possibile trovare le strutture che vogliamo cercare all'interno del nostro mondo E con Locate Biome i biomi che ci interessano Ma ora ragazzi possiamo cercare con Locate più strutture rispetto a prima Con dei parametri nuovi Ad esempio le strutture che vengono cercate dai delfini Come le navi affondate, i relitti nell'oceano O come le strutture, le rovine oceaniche se vogliamo chiamarle così Ma possiamo cercare davvero di tutto Ad esempio se cerchiamo un villaggio Troveremo un villaggio nella taiga a 621 blocchi di distanza Se avete notato la sintassi rispetto in passato è cambiata Infatti prima di Minecraft 2 punti villaggio Abbiamo l'hashtag L'hashtag serve per indicare al gioco che cerchiamo un villaggio qualsiasi Se noi non vogliamo cercare un villaggio qualsiasi Invece non metteremo l'hashtag Quindi lo togliamo E possiamo andare a scoprire che ci permette di cercare le varianti del villaggio Ad esempio noi vogliamo il villaggio nella neve Quindi underscore snowy E in questo modo il comando ci trova a una distanza incredibile Peraltro solamente il villaggio nella neve Ed ecco qui che abbiamo trovato il villaggio del tipo esatto Che volevo trovare Chiaramente questa novità si applica a un sacco di cose Ad esempio i portali del nether Ne vogliamo uno nella giungla Per qualche strano motivo Quindi andiamo a scrivere Ruined Portal Jungle E in questo modo a 2400 blocchi ci trova esattamente un portale distrutto nel biomo della giungla Che in realtà è una jungle edge quindi non ci è dato benissimo Però abbiamo trovato questa versione in particolare E così via ragazzi Sarà possibile quindi trovare di tutto Una delle cose più strane era ad esempio la nave spiaggiata Il relitto spiaggiato Che per molto tempo abbiamo pensato fosse quasi un bug In realtà i relitti possono anche sponare a ridosso delle spiagge E possiamo trovare quello spiaggiato anziché quello sommerso Sempre con questo comando Le novità sulle strutture non si fermano qui Infatti è ora possibile personalizzare le strutture del gioco Per far sì che alcune strutture sponino in biomi diversi Abbiamo già fatto diversi esempi negli altri video Land City nella giungla Abbiamo visto le piramide del deserto nella mesa Eccetera eccetera Ma possiamo anche aggiungere al gioco delle strutture custom E decidere dove farle sponare Tramite ovviamente i data pack che si aggiornano alla versione numero 9 In questa versione del gioco E sempre tramite data pack Che di fatto per chi non lo sapesse sono delle mini mod Che possiamo andare a installare nei nostri mondi singoli Con Minecraft vanilla E si installano a modi resource pack Quindi basta trascinarle in una certa cartella Possiamo anche andare a settare le exploration map Ovvero quelle particolari mappe che ci possono dare i villager cartografi Che ci permettono di trovare monumenti oceanici e magioni Possiamo invece andare a creare una mappa Che vada a puntare una particolare struttura che abbiamo aggiunto In maniera custom Cosa davvero molto interessante E sempre tramite data pack è possibile regolare il rumore Il cave noise per così dire Che permette in breve di settare il modo in cui sponano le caverne Che quindi saranno personalizzabili Io vi segnalo tutte queste novità Detto che se giocate con i comandi disattivati Non potrete usare i comandi che abbiamo visto E se non mettete data pack Quindi se usate vanilla puro al 100% Queste cose non le vedrete appunto A meno che non le vogliate vedere E ora un po' di novità a raffica Leggo direttamente dal changelog che gli utenti minecraft Che usano ancora un ecosistema Un computer che gira a 32 bit e non a 64 bit Riceveranno un messaggio Dato che il supporto ai 32 bit verrà chiuso Tra non molto Quindi preparatevi se avete un computer molto vecchio Purtroppo sarà il momento o di aggiornarlo Oppure non ci si potrà giocare nelle versioni nuove Se abitate in Sud Corea Per qualche ragione Avrete un messaggio con un timer Che vi avvisa quando avete giocato troppo Viste che ci sono delle leggi Che impongono di ricordare ai giocatori Quando è il caso di fare una pausa Infatti giocare per troppe ore di fila In realtà non fa bene al fisico Quindi bisognerebbe ogni tanto fare una pausa Anche senza avviso schermo Per quanto riguarda i seed del mondo Hanno risolto il problema che aveva il seed 0 Che non è più trattato come un caso speciale Ma come un seed vero e proprio E se quando mettiamo come input un seed Abbiamo messo uno spazio davanti all'inizio del seed O alla fine Lo spazio verrà ignorato In modo che se copiamo e incogliamo un seed da internet E si copia per sbaglio uno spazio Non si genera un seed diverso Semplicemente il gioco va a togliere lo spazio E a darci il seed corretto Ora i delfini di cui abbiamo parlato prima Sono più accurati Nel trovare la struttura più vicina Tra quelle che possono localizzare Se gli diamo modo di accompagnarci verso la struttura E infine nel periodo di Natale Le end chest non saranno più trasformate in pacchi regali Ma rimarranno normalissime end chest E per finire ovviamente Come qualsiasi versione correttiva Sono stati risolti un sacco di bug Tra cui attorno Si parla ai 100 bug segnalati dall'utenza Sono stati risolti Di questi alcuni riguardavano anche le performance a livello server E avendo io un server di Minecraft Sono contento Perché con la 1.18.2 Spero che possa girare tutto meglio E soprattutto che si verifichino Meno imprevisti Dato che apparentemente la 1.18 ne era piena Detto questo ragazzi Non vi sto a elencare i bug fix perché sarebbe inutile Sono problemi che non dovrebbero esistere dal principio E per questa versione è davvero tutto Non è una grandissima versione Ha qualche novità interessante Però andava riportata come tutte le altre Detto questo Da domani si apre ufficialmente l'era 1.19 Staremo a vedere se ci droppano già uno snapshot Oppure se dovremo aspettare un po' di più In ogni caso Se succederà Io sarò qui pronto A portarvi un video a riguardo Detto questo ci vediamo stasera in live E eventualmente domani qui nel video Un saluto da Eren Ciao a tutti